Ecco, ecco il nostro direttore che si sta difendendo alla grande dall'attacco di Stefano e ancora il nostro direttore che riesce a mantenere la maglia dei giovani Grande Volpato, grande, 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 grande L'uomo immagine ha protetto la maglia di Lider anche oggi Doppi, 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 doppato, drogato Noi a temperatura, zi fiori sti qua Noi a chiapa, noi a chiapa Vai di netto Grazie 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 Grazie